buongiorno 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 flash per cosa? due cose una cosa importantissima domani domani allo stadio Cicchini ci sarà il memorial Daniele Cicchini quindi categoria bimbi 2009 quindi vedete giocare dei bimbi bravi divertenti più le amichevole con le vecchie glorie suddivisi in uspa uspa vecchie glorie meteore sciancati insomma quindi ormai sarà una bella giornata per ricordare di sport per ricordare un amicone grande ormai sta diventando sta diventando una colonna una colonna portante un trameggio un trameggio un trameggio è il magrito sì il trameggio insieme a questo ci sarà la fondazione Bacciotti che ha finito l'opi ma c'ha i gadget c'ha comunque un IBAM per fare delle donazioni si deve poter farle quindi c'è anche per conoscere un po' cosa fanno e tutte queste cosine belle in più domani noi saremo presenti al memorial però in collegamento abbiamo tutta la diretta del sport elbano metallifere del sport elbano e quelle metallifere il rally dove c'è anche il grande Cuccio Gianni mi raccomando Gianni Regini c'è Simone Lupi c'è Bettini ci sono tanti Colpi Marconi ci sono tutti ci sono tutti manco io manco io basta basta ma salutare Olo che purtroppo ha già fatto da l'Elba che seguiremo in diretta in diretta seguite anche www.edicolaebanashow.it sta avvenendo una sezione nuova meravigliosa sta avvenendo una sezione nuova e poi mi raccomando state pronti perché qualche pomeriggio incomincieremo le impulsioni con i candidati sindaci a queste elezioni ci hanno già ma ieri c'è stato delle presentazioni a Porto Febraio nuove eh comunque noi avremo proprio i candidati ufficiali all'Elba quindi dalla prossima settimana tenetevi pronti e so che una lista ieri sera ha chiamato a uno all'undici di notte beh digli vieni l'instagram sei stato nominato sì sì il bimbo tu hai il bimbo le manette no l'X fatto l'X fatto l'X fatto il bimbo ha chiamato a Redicola Elbana e ha detto che devo fare che devo fare io l'ho detto vieni a Redicola Elbana confessa e poi tireremo un risultato e faremo eh arrivederci ciao buon weekend domani tanto sport a Redicola Elbana ci sarà una postazione fissa e mobile dove io sarò fisso con un ospite e lui sarà mobile in mezzo al campo gli siamo pure potessi venire venite c'è due microfoni ciao